salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video non ci crederete ma qua da me è arrivata la befana ed è arrivata volando si ragazzi avete capito bene è arrivata volando ed è arrivata volando su un drone invisibile quindi ragazzi adesso vi lascio all'arrivo della befana qua vicino a casa mia perché è venuta a trovare me e mia figlia tutta la mia famiglia e ovviamente è arrivata a bordo della sua scopa ma mi raccomando ragazzi aspettate la fine del video dove vi farò vedere come ho fatto a rendere possibile il volo della befana quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e gustiamoci l'arrivo della befana andiamo grazie a tutti grazie a tutti ok ragazzi avete visto che figata pazzesca e che effetto che sono riuscito a tirare fuori utilizzando appunto una befana della kinder ma come ho fatto a creare questo volo della befana qua nei campi intorno a casa mia adesso vi faccio vedere come ho fatto e però anche cosa è successo alla fine del video che voi non avete ancora visto allora ovviamente ho preso una befana della kinder che è questa che adesso è un po conciata e capirete perché adesso è un po conciata e poi ho preso lui il beta fpv drone invisibile dove va installato ovviamente una insta360 one air che rende appunto il drone invisibile mentre qualsiasi oggetto messo sopra il drone diventa visibile purtroppo non so il perché non so il per come ad un certo punto il drone ha iniziato a salire di quota perché diciamo che questo è un drone abbastanza non venuto benissimo dal punto di vista dei componenti secondo me è un drone non fantastico è fantastico solo per il discorso che diventa fantasma ma per il resto non è un grandissimo drone e ad un certo punto dopo circa due minuti circa di volo ha iniziato a salire di quota senza un perché anche con lo stick giù lui continuava a salire quindi ovviamente ho dovuto spegnere il motore per farlo atterrare in qualche maniera perché rischiavo veramente di andare a perdere il drone ma soprattutto la insta360 one air quindi ho dovuto farlo precipitare qua nel campo il campo ovviamente è bagnatissimo perché piove da due giorni e il risultato finale ragazzi è stato questo la befana tutta infangata che si è addirittura staccata dal supporto che gli avevo costruito sotto meglio dove l'avevo fissata qua sopra la batteria e il drone che è tutto tutto infangato però ne è valsa la pena perché comunque secondo me l'effetto è stato sicuramente adatto per il giorno della befana quindi ragazzi se questo mio video dove veramente ho tirato fuori un'altra cosa da malato di mente vi è piaciuto è stato interessante l'avete apprezzato lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità anteprime voline fpv stampe 3d anche qualche spoilerino riguardante lei era arrivato su instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo un'accensione un testo un tutorial una novità e ci vediamo al prossimo video ciao